Le assunzioni riferite ai solidatori di lavoro privati nei primi sei mesi del 2019 sono state 3.726.000. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la crescita riguarda i contratti a tempo indeterminato, i contratti di apprendistato, stagionali e intermittenti. Risultano invece in diminuzione i contratti a tempo determinato e quelli in somministrazione. Lo rende noto l'Inps. Nel periodo gennaio-giugno del 2019, rispetto al corrispondente periodo 2018, vi è stato un netto incremento delle trasformazioni, da tempo determinato a tempo indeterminato, passate da 232.000 a 372.000, più 60,4%. A giugno, l'Istat stima che il fatturato dell'industria diminuisca su base mensile dello 0,5%. Nel secondo trimestre, l'indice complessivo diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Anche gli ordinativi registrano a giugno un calo congiunturale sia su base mensile, sia nel complesso del secondo trimestre. Corretto per gli effetti del calendario, il fatturato totale diminuisce su base annua dello 0,8%, riflettendo cali su entrambi i mercati, meno 1% del mercato interno e meno 0,1% quello estero. Con riferimento al comparto manufatturiero, le industrie tessili e quelle dei mezzi di trasporto registrano la crescita tendenziale del fatturato più rilevante, più 4,1%, mentre l'industria farmaceutica mostra il calo maggiore, meno 12,6%. A luglio 2019 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 19,1 milioni, in aumento del 33,5% rispetto allo stesso mese del 2018, 14,3 milioni. Lo rende noto l'Inps. Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a luglio 2019 sono state 8,8 milioni. Un anno prima, nel mese di luglio 2018, erano state 7,6 milioni. Di conseguenza, la variazione tendenziale è pari a più 17%. In particolare, la variazione tendenziale è stata pari a più 38,2% nel settore industria e meno 34,1% nel settore edilizia. La variazione congiunturale registra nel mese di luglio 2019 rispetto al mese precedente un incremento pari al 9%. A fine giugno, la rilevazione effettuata da Assoreti evidenzia una valorizzazione record dei prodotti finanziari ed i servizi di investimento distribuiti dagli intermediari associati tramite l'attività dei propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuorisede pari a 584,4 miliardi di euro, con una crescita del 2,3% sul trimestre precedente. Il patrimonio complessivo dei prodotti del risparmio gestito si attesta sui 413,8 miliardi di euro, più 1,6%, mentre la valorizzazione delle posizioni in regime amministrato è pari a 170,6 miliardi di euro, più 3,8%. Grazie a tutti.